Incassata la vittoria alle regionali, il Presidente del Consiglio raguarda con più fiducia i prossimi impegni su tutti le nomine degli amministratori delegati delle società partecipate dello Stato, a cominciare dall'ENI, dove scontata la riconferma di Descalzi. Quindi il capitolo politica estera. Per il weekend Meloni sarà a Monaco per un vertice sulla sicurezza, un'occasione per ribadire il sostegno dell'Italia all'Ucraina dopo le parole di Berlusconi. E all'inizio della prossima settimana potrebbe esserci l'atteso viaggio del Presidente del Consiglio a Kiev per incontrare Zelensky. Voto alle regionali dunque che aprirebbe ampi spazi di manovra per il Governo, con i partiti di maggioranza soddisfatti del risultato. E lo stesso non si può dire per quelli di opposizione pronti a farsi sentire, soprattutto in Parlamento. Dopo il voto di fiducia ottenuto ieri dal Governo, tra poco alla Camera, ci sarà quello finale sul decreto flussi migratori che prevede una stretta l'azione delle ONG con le navi soccorso in mare, con sanzioni che potrebbero arrivare fino al fermo amministrativo dell'imbarcazione. Nel pomeriggio invece l'informativa del Ministro della Giustizia Nordio sull'esito degli approfondimenti relativi al cosiddetto caso Donzelli del Mastro, occasione anche per fare il punto sulla questione cospito, il leader anarchico in regime di 41 bis.